Buongiorno raga, bentornati in un nuovo video, un nuovo vlog Allora Oggi ho contattato finalmente l'assicurazione Perché avevo provato a chiamare sia ieri che oggi Non mi hanno risposto nessuno E allora siccome io ho l'app Dove c'è anche la chat Ho provato a scrivere lì Mi ha risposto una consulente Mi fa Insomma cosa desidero Mi faccio guardare per avere delle informazioni Cioè prima mi sono presentato Chi sono, ecco, targa del veicolo E poi gli faccio Guarda, vuole sapere delle informazioni riguardo al numero di sinistro Tot, tot E mi fa, guarda, aspetta, ne ho controllo E niente E poi mi fa che c'è in pagamento appunto Il bonifico Del, dei danni insomma Della macchina E poi li faccio Ma Io avevo ricevuto un'email appunto che mi diceva Che c'è un errore Nel Liban, no? Perché avevo mandato Il Liban tramite E-mail E quindi li faccio Se è tutto a posto Tutto ok Se va bene così O se mi devo aprire un conto bancario Visto che le ho mandato Il Liban della Poste Pay Con usc'è anche comunque Il Liban Però loro mi dicono Che c'è un errore E io voglio ricontrollare Tutto a posto E Lei mi fa Ma si tratta del conto Poste Pay? E io dico Sì, esatto Quello proprio E lei mi fa No, guarda, tranquilla proprio Perché Bonifico è andato a buon fine E Non sono problemi Io gli dico Allora Più o meno sa dirmi Fra esattamente quanto tempo Dura insomma Sta cosa Che mi arrivano i soldi Queste cose qua E lei mi fa Guarda In tre giorni dovrebbe arrivarti Quindi senza problemi Quindi adesso io mi sono un attimo Tranquillizzata Perché mio amoroso Mi stressa tipo Da una settimana Due Ho perso anche il conto Da quanto tempo mi stressa Riguardo appunto Sta cosa Del bonifico Che hai fatto arrivare i soldi Perché dopo E bla E la E su E giù Bla Insomma Lasciate stare Sto crepando di caldo E adesso mi metto davanti al pc Perché voglio editare qualche video Oh dio Ah, domani Ci stavo guardando I cartoni Cioè SpongeBob Stavo guardando Cioè Lo so Sono troppo grande per questi cartoni Ma mi piace lo stesso Ritornare un pochino Bambina Mi piace guardare i cartoni A chi non piace guardare i cartoni Ecco Adesso vi dico anche quando i gradi ci sono Perché sto veramente crepando 33 gradi Ecco Non so più E niente Allora Vediamo Non vorrei editare due volte lo stesso video Ma è improbabile perché vado sempre a controllare di solito Ecco O comunque mi ricordo il video E E niente E niente Edito E forse dopo arriva Mi amoroso Probabilmente Andremo a portare la portiera Che abbiamo comprato a Rigotti Da suo fratello Che deve montare Sinceramente Sinceramente Non sono tanto d'accordo con sta portiera Perché non è un'automatica È una Col finestrino manuale E tutta la macchina È Vabbè La macchina elettronica Ha i finestrini Che si abbassano Col Buttoncino E prendi sta Cazzo di portiera Manuale Cioè Ho capito che la vendiamo dopo Però Cioè Voglio dire Un po' di serietà Tipo no E ok Va bene Mi metto a editare Ci stendiamo Ci vediamo Tra poco Quando finisco di editare Devo fare anche la doccia Sì Devo fare la doccia Perché volevo farla ieri Abbiamo comprato il boil Non sono l'avontato Quindi è ancora lì In soggiorno Che aspetta Poverino E anche io che aspetto Che farla doccia Non ho voglia di farmi la fredda Sarà gelida Tipo mi ammalo No grazie Cioè Vabbè che la faccio Con acqua tiepida Però neanche gelida Cioè Parliamone E perché Non si è nascosta No ma Si mette avanti Ancora noi Sì Sì Ti aiutai Oh Sti vuoi te la vengo Sto macchina Ah Questa Ma di me Questa Qualcun scontro Anca Il muro Sì Non è così Non è così Non è così Non è così Buongiorno Diocca E' stata pure la mosca Guarda chi le mosche Orco No Un po' Porco Il muro E' stato Vestile Ma mi devo dire Su Instagram No no ma si è detto Su Instagram pieno di succhi a puli No Basta Perché ti piace Stai a me che ti piace Ho sentito poco Non gli accazzate Dio Non so che c'è un bel potere Non so che fanno lavoro così Mone Ora o la sedegua O la Io se la sedegua Mone No perché Ora capito Ora o la sedegua O la sta su L'induclava O devo lasciarvi Non so che c'è Io ho fatto la mosca La bagna E la cavatelle Il posto non via F***a Non odio Bella raga si mangia Se mangia Io oggi mangio frittina Io mangio sushi Sushi io non mi mangio Non è più l'aggata Dai Dai Vieni un po' di coglione Ciao Anna Ciao siamo con Se mangia No io non mangio Io bevo basta Tu bevi il pullo oggi Tu devi ancora bere il pullo Adesso Che cittino Guardi che bel palloramo Il pullo Ma basta Pullo Pullo a destra Pullo a sinistra Basta Pullo 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 Anna tu ti siedi vicino A questo Tu ti siedi vicino A questo tizio Capriè Ti siedi vicino All'arresti Spero che non Quanta anni Quanta anni Forse Esatto Forse Non è scontato Non è scontato Ce l'ha vedere Ma ti vuoi doi? Che cosa fa la roccia? Sai viene il nostro matrimonio Oh noi non ti invitiamo Dilliana Non ti invitiamo Oh guarda che villetta Oh guarda che villetta che la trova Oh guarda che villetta che la trova per ti guarda Per me? Per me? Non te lo permetti Della villa Oh no te la puoi permettermi anche te vecchio No 500 mila si Sì ma vecchio ma sai quanto cazzo vale questa? Non 57 mila? Un milione e mezzo forse Un milione e mezzo? Allora noi compriamo Tireno E facciamolo Sì De carta la gente De carta questa E cartone Mongoloide No ma l'ore Descordate con le mate Cioè che conversazioni filmate poi Ma sono piccati i bagioli Cioè che non si mette a poco Mangio o mangio io? Cioè Ma è fuori di testo anche questo Perché ho bevuto il vino Ah ho bevuto il vino Si è venuto fuori testo Ma è lento Sai che non è un letto vero? Cazzo Vuol dire la manicola Dilo Eh? Cosa? Vuol dire? Vuol dire pullo pullo Basta con sto pullo Tutto il giorno dice pullo eh Sai perché ci fai il puto? Io lo so Si fa il video Per guardarlo Questa è un eroe Morto il Fernando Potti Aia 65 euro E' morto Vedi Questa è un eroe Questa è salvata due persone Questa è salvata due persone Il mare Arriva Lanna Rifai 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 Vai Fai col video No No Così non è bene Bella questa Upti Oh allora qua Stima Stima 9 luglio Questa è un ero 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 Questa è un ero